Buongiorno e benvenuti alla Resegna Stampa di FanoTV, oggi è l'udì 14 settembre, una giornata molto importante, una giornata di grandi attese, una giornata anche frenetica, una giornata in cui bisognerà darsi da fare, riprendere i ritmi che abbiamo per certi versi, certi campi anche, forse un po' dimenticato, perché? Perché oggi ritornano a scuola 5 milioni e 600 mila studenti, tantissimi sono anche quelli che nelle Marche, i marchigiani, ritorneranno appunto a sedere per la prima volta dopo quel 5 di marzo, quindi sono passati più di sei mesi, l'ultima volta che i nostri figli sono andati a scuola, da quella volta poi tutto è cambiato, il lockdown ha chiuso tutte le scuole, adesso si riapre, si ritorna e dunque c'è anche emozione, c'è tensione, soprattutto per chi deve fare in modo che questi studenti, questi ragazzi tornino in sicurezza, perché rispetto a tanti mesi fa, rispetto a sei mesi fa, molte cose sono cambiate, il virus ancora non è scomparso, non è stato vinto e dunque nella convivenza con il Covid-19 bisognerà fare i conti e quindi cercare di perlomeno tornare ad una vita quanto più normale possibile, anche tra i banchi, tra banchi che saranno evidentemente distanziati l'uno dall'altro, ma di questo parleremo nella diretta delle 8, la rassegna stampa, infatti questa mattina sarà suddivisa in due parti, la prima parte quella classica che siete abituati a vedere con la lettura dei titoli dei giornali, oggi lunedì con gli inserti sportivi, poi alle 7.30 in diretta avremo la messa in diretta da Loreto e torneremo subito dopo alle 8 con la seconda parte, alla fine della messa insomma la seconda parte della nostra rassegna stampa, con la rassegna e i collegamenti previsti da Fano e da Pesero con i nostri inviati che ci diranno un po' come stanno andando le cose, come sono andate le prime ore di questa importante giornata. Allora andiamo però anche noi con ordine e vediamo il cartello del Santo di oggi, oggi la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce, l'alba alle 6.49 e il tramonto alle 19.24. Un rientro a scuola con una giornata che è tipicamente ancora estiva, avremo come potete vedere dal bollettino della protezione civile delle Marche, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature stazionarie, rilievo e diminuzione dei valori massimi per quanto riguarda giornate domani, martedì 15, ancora cielo sereno poco nuvoloso, con temperature senza variazioni di rilievo. Questo per quanto riguarda il tempo. Andiamo però prima di vedere i giornali sul nostro sito internet, occhianotizia.it, perché la nostra redazione ieri sera ha pubblicato, come vedete in primo piano, in apertura, la notizia di un rimorchio che è andato a fuoco lungo l'autostrada 14. Devo ringraziare come sempre tantissimi nostri segnalatori, voi telespettatori, lettori che ci inviate, collaborate con la nostra redazione con foto e video e ci permettete anche di in qualche modo aggiornarvi in tempo reale e soprattutto di farvi vedere e anche condividere insieme a voi le immagini, i video e le fotografie. Allora, un rimorchio carico di vestiti che è andato a fuoco ieri sera, poco prima delle 20.50, lungo l'autostrada 14 all'altezza del casello di Fano. Due le esplosioni avvertite dai residenti della zona in tre ponti. L'autista che si è accorto del fuoco provenire da dietro è riuscito a staccare la motrice salvandola dall'incendio. L'autostrada è stata riaperta a due corsie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano insieme a quelli di Pesero. Qui c'è anche il video che vi possiamo far vedere. Eccolo qua, c'è anche l'audio. Tutto sul nostro sito occhioallanotizia.it. Andiamo adesso invece a vedere il giornale. Allora, cominciamo dal resto del Carlino. Questa è l'edizione di Pesero. Centropagina, la fotonotizia, la campanella della verità. Scuola al via tra le incognite, distanziamento e trasporti. Covid, altri 19 positivi e due focolaia. Fermignano e Petriano i cluster. 12 persone che rientrano dall'area balcanica. Contagiati anche due bimbi. Tavuglia che spolvero a Misano. Morbidelli vince il Gran Premio. Luca Marini primo nella moto 2. E Valentino vede svanire il podio nel finale. Nuova pista per Bicci e Skate. Il sindaco è quello di Pesero Ricci. Vola contro il degrado. Inaugurata la pump track. E poi, di taglio basso in prima pagina, lo sport. VL a caccia del miracolo contro Sassari. I biancorossi devono vincere di 19 punti per accedere alla Final Four di Bologna. E poi c'è la clamorosa indiscrezione che arriva dal Piceno. Gabellini vuole comprare l'Ascoli. L'ex patron dell'Almafano starebbe trattando sul prezzo per acquistare la squadra che milita in Serie B. E adesso invece il Corriere Adriatico. In apertura sui bus la carica dei 12.000 studenti. Tanti utilizzeranno giornalmente il servizio di trasporto. Oggi la prova del 9. In tutte le scuole della provincia. Mezzi pieni all'80%. Potrà viaggiare in piedi un altro 20%. A bordo presente il tutor per controllare le mascherine. A centropagina, nel segno del leoncino, Benelli Week, si accende la passione. Sotto premio Covid a Pesero premio Covid e indennità dal personale sanitario ultimatum all'area vasta. Ripartono i contagi in provincia la metà dei casi della Regione e a Fano settembre parte come agosto. il turismo è in ripresa. E poi ancora lo sport dalla prima del Corriere. Ciclismo, terreno Adriatico. Oggi il gran finale a San Benedetto. A Loreto invece vince Van der Poel. E poi VL, Sassari, la sfida decisiva per qualificarsi. Supercoppa ad Olbia. E allora le pagine interne. Trasporto scolastico alla prova. Sui bus salgono 12.000 studenti. Abbiamo visto Benedetti, Diadri, Bustice, le simulazioni effettuate sul carico ci rendono ottimisti. Le entrate a scuola questa mattina saranno scaglionate. Tutti in classe, ma per l'installazione dei dispenseri igienizzanti a bordo ancora qualche giorno di attesa. Ma tutti, insomma, anche gli studenti. Voi genitori date i kit igienizzanti, insomma, quelle piccoline, le boccette che fanno sempre comodo e devono essere portate in qualche modo. e portate sempre con sé. I ragazzi viaggeranno occupando, abbiamo visto, l'80% delle sedute, ma è autorizzato anche un 20% di posti in piedi. Sul resto del Carlino, trasporti, l'incognita sui 16.000 pendolari. Solidea Vitali Rosati, questa mattina fa un quadro molto dettagliato e una panoramica sugli otto istituti comprensivi presenti in città. Il primo stress test, dunque, saranno i trasporti scolastici. Fino ad oggi, fin da oggi, i genitori impareranno a lasciare i figli dentro il cortile e a non entrare nelle classi per non complicare le operazioni di sanificazione e di tracciamento nelle scuole. Meno visitatori entrano, dunque, e meglio sarà. Meglio è, così dice Roberto Lisotti, presidente del liceo Mamiani. Siamo a Pesero, ovviamente. Poi dimezzata, rispetto all'anno scorso, del numero di abbonamenti fatti dalle famiglie. Quindi va detto che siccome molti l'anno scorso hanno avuto problemi anche per il rimborso degli abbonamenti, perché abbiamo visto che dal 5 di marzo poi nessuno ha potuto più tornare a scuola, va da sé che gran parte dell'abbonamento poi, insomma, per molti è rimasto nel cassetto. E dunque quest'anno, non sapendo come andrà nei prossimi mesi, se la scuola sarà sempre aperta oppure verrà richiusa, non sappiamo come andrà con il Covid, in molti hanno evitato di fare gli abbonamenti. Tant'è che, appunto, secondo il resto del Carlino, questa mattina gli abbonamenti di Adribus sono dimezzati. Cosa significa però? Significa anche che l'altra metà di coloro che non hanno fatto l'abbonamento o fanno il giornaliero oppure andranno con i genitori e quindi con la macchina. Questo significa che aumenterà di molto il traffico cittadino, quindi potrebbe essere, e anche questa è una prova, bisognerà vedere stamattina cosa succederà. Sicuramente il traffico cittadino, come è fisiologico, ogni anno aumenta con l'inizio della scuola, però questa volta, con il discorso degli autobus, potrebbe essere un traffico molto elevato e quindi anche congestionato in certi punti. Anche questa è una scommessa, bisognerà vedere e ne parleremo magari stasera nel telegiornale. Poi ci sono scuole che, per evitare assembramenti e garantire i trasporti, hanno modificato l'orario di entrate e di uscita, istituendo fasce d'ingresso. Alla Dante Liglieri, spiega la preside Fiorella D'Ambrosio, abbiamo previsto tre ingressi scaglionati, tra le 7.45 e le 8.45 per le medie. Per la prima volta, invece, l'Agrario Cecchi ha introdotto la settimana corta, così come non andranno a scuola il sabato alla Pirandello. Alla Federico Barocci, invece di Monbaroccio, con l'aiuto dell'amministrazione comunale, le classi a rotazione faranno lezione sfruttando il teatro. Sulla pagina 5 del resto del Carlino, Benedetta Iacomucci questa mattina fa un po' il riepilogo della situazione sui casi di coronavirus nella nostra provincia. Allora, intanto va detto che il territorio di Pesorurbino continua ad essere il più colpito. Su un totale di 39 positivi in tutta la Regione Marche sono ben 19 i residenti in provincia. E nella maggioranza dei casi si tratta di rientri dall'estero. 12 infetti rientravano dall'area balcanica, 7 residenti nella zona di Fermignano, dall'Albania 5 dalla zona di Petriano, dalla Macedonia, gli altri 7 invece risultano aver avuto contatti domestici con parenti infetti oppure sono stati sottoposti a tampone alla comparsa dei primi sintomi. E' un trend questo che comincia a creare anche qualche problema di tipo culturale perché la comunità di stranieri, soprattutto loro, tendono a mostrare un'insofferenza maggiore per le limitazioni imposte del contenimento del contagio. E il giornale fa, non fa l'esempio, cita quello che sta accadendo a Vallefoglia dove un'intera famiglia albanese è in isolamento da più di un mese e non si negativizza. Quindi nonostante si facciano i tamponi, come dice Augusto Liverani, direttore del servizio igiene dell'area vasta, si facciano anche in tempo, cioè nel minor tempo possibile, e purtroppo, come in questo caso, ci vuole del tempo perché il tampone continua ad essere positivo nonostante sia passato ormai un mese. La cronaca, tamponamento a catena sulla strada dei cantieri. Chi si è mosso in questi giorni anche di bel tempo, quindi tanti si sono spostati dalla vicina Umbria oppure dall'entroterra per venire al mare a prendere le ultime tintarelle in spiaggia. Si sarà accorto che sulla E78 ci sono tanti ristringimenti dovuti a lavori, lavori che a volte paiono essere anche interminabili, lunghi, lunghissimi, come per esempio quelli all'interno della galleria di Fossombrone del Furlo, mi pare, perché anche lì ci sono dei lavori di imbiancatura che sembrano non finire mai. Ma ieri mattina c'è stato un incidente sulla Fano Grosseto alle 10.52 nella corsia Montemare all'altezza di Fossombrone tre auto ed una moto si sono tamponati per fortuna senza conseguenze per i conducenti. Però, come dire, non passa estate che ci siano dei lavori lungo l'arteria appunto dei due mari della Fano Grosseto anche se poi i due mari non sono collegati. Ma comunque c'è anche un altro fatto per esempio che rallenta e ci si mette a complicare un po' la faccenda. C'è un cantiere anche vicino Fano per sistemare dei guardrail e delle interruzioni volanti sempre sulla Fano Grosseto per la pulizia delle banchine con i trattori muniti di braccio con trincia erba. quindi per pulire diciamo i lati della strada la vegetazione che ovviamente poi soprattutto a settembre riprende e quindi bisogna tagliarla. Però anche in questi casi creano e generano un po' di traffico perché il traffico viene incanalato e va addirittura a passo d'uomo. Poi c'è anche da dire che purtroppo come scrive giustamente il giornale questa pulizia ha un grave difetto. Tutta la sporcizia nascosta dall'erba dall'erba alta una volta che questa viene tagliata rimane in bella vista così a lato della strada si vedono plastiche cartacce che prima o poi qualcuno pulirà oppure no o forse così come scrive il giornale questa mattina. Velocemente andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Fano la dedica questa mattina a settembre e all'andamento turistico. Settembre parte come agosto il turismo è tornato a sorridere titolo del Corriere di questa mattina la stagione recupera nel finale il target Fano ideale per vacanze nel periodo Covid. Dunque se formalmente la stagione balneare è terminata ieri le concessioni non smobilitano alcune hanno ridotto in parte le loro attrezzature ma grazie al bel tempo che ha reso il mese di settembre di quest'anno ideale per trascorrere le vacanze le presenze di turisti sono ancora numerose e sono ancora numerose anche a Fano. A centro pagina c'è la fotografia di questo tir andato a fuoco all'ingresso dell'A14 l'abbiamo visto poco fa nel nostro sito intorno alle 20.45 l'autostrada A14 è stata la carreggiata nord bloccata per circa un'ora con uscita obbligatoria al casello di Fano il debutto alla prova di canto di 11 coristi all'Accademia dello Spettacolo dopo l'esibizione di sabato ripartono e riprendono tutte le arti mentre da Urbino mense e trasporti sono ok chiedo pazienza sugli orari l'assessore Guidi conferma la copertura da oggi di tutti i servizi ma servirà anche un po' di rodaggio quindi come vedete tutti i presidi sono come dire sono lì un po' preoccupati perché giustamente è il debutto anche per loro insomma e quindi si spera che poi vada tutto bene tutto fililiscio tamponamento a catena fa chiudere la superstrada l'incidente in corrispondenza del restringimento a Fossombrone per lavori per lavori anche il Corriere di Fano questa mattina fa appunto un punto della situazione su quelli che sono i disagi per gli automobilisti che devono e che viaggiano lungo la E78 poi Adria Buschedevia su Pesaro il traffico diretto a Urbino l'ovvia conclusione di Ferrovie Valle del Metauro per le ultime scelte sulle linee la 25 parte solo dal Pincio e va bene questa è un po' la questione che riguarda anche la vecchia ferrovia del vecchio invece con Acquaroli protocollo Fano cancellato si parla delle ultime battute della campagna elettorale ricordo che insomma il 20-21 si vota e sulle mense o meglio sulla pagina di Senigallia anche qui si parla di scuola le classe la classe pollaio non riesce a trovare pace gli spazi ci sono non bastano però i professori gli studenti iniziano l'anno nell'aula magna del Corinaldesi la preside dice aspettiamo i supplementi ora la notizia di sport clamorosa se vogliamo che ha pubblicato il pubblica il giornale il carrino questa mattina è che Gabellini che ha appena mollato il Fano l'Alma Juventus Fano l'ha venduta la venduta recentemente adesso pare sia interessato con un rientro che appunto sta di clamoroso a comprare l'ascoli si sondano le intenzioni del proprietario della società bianconera Pulcinelli ma non c'è ancora l'accordo sul prezzo ovviamente Claudio Gabellini dopo che ha venduto dopo la vendita all'inizio di agosto dell'Alma a Enrico Fattoffi Dani non è uscito del tutto dal mondo del calcio in quanto nella trattativa per la cessione della società Granata per esempio non è entrata l'Accademia Granata ovvero la scuola di calcio fanese che l'imprenditore ha confermato anche di recente di voler continuare a finanziare per dare la possibilità a centinaia di ragazzi di praticare il calcio ed è proprio forse questo scrive Clapis questa mattina sul giornale potrebbe proprio essere da qui da questa Accademia per i ragazzini che potrebbe ripartire il rientro di Gabellini nel calcio che conta maggiormente a livello nazionale perché l'ascoli appunto militando in Serie B comunque garantirebbe immediatamente soddisfazioni gratificazioni che probabilmente insomma nel Fano non ha non ha avuto e poi si legge insomma in questo articolo del carino di questa mattina insomma potrebbe avere anche contatti e collaborare con gli imprenditori locali personaggi locali soprattutto nel mondo dell'edilizia e quindi insomma a questo punto potrebbe anche non essere definitivamente tramontata l'ipotesi che era sempre di Gabellini a Fano di un nuovo centro sportivo di uno stadio compreso in località Chiaruccia finito al momento in stand by e che potrebbe però riprendere vigore proprio per la presenza di questi soci ascolani impegnati nell'edilizia insomma fantascienza oppure realtà beh di questo questo lo sapremo soltanto nei prossimi giorni come si dice nelle prossime nelle prossime ore la VL invece la VL e parliamo di basket siamo sul Corriere si è inceppata ma stasera può ripartire contro Brindisi una serata non per molti alle 21 con Sassari c'è un'altra chance la qualificazione dunque alla Final 8 è possibile ma comunque non è certo facile allora intanto non so se dalla regia mi confermono possiamo sapere posso sapere se c'è già qualche collegamento non non mi serve il collegamento audio mi basta solo un video per far vedere i nostri telespettatori che insomma dove siamo e per dare a loro a voi tutti l'appuntamento alle 8 con la rassegna stampa la seconda parte perché questa mattina cercheremo di raccontarvi abbiamo due inviati a Pesaro e Fano che stanno raccogliendo stanno facendo interviste e stanno cercando di capire com'è questa prima giornata di scuola il back to school come si dice allora qualcuno ce l'abbiamo Riccardo ma è tanto così anche se sono immagini sporche o grezze non importa ecco abbiamo come vedete due collegamenti il primo è da Pesaro a destra nel vostro teleschermo e l'altro invece è a Fano sono due istituti che come vedete in questo momento ancora sono deserti non c'è praticamente nessuno ma comunque che tra poco immagino si popoleranno di gente ecco vedete sono immagini che vi arrivano in diretta poi dunque a Fano siamo al liceo mi pare allo scientifico mentre a destra alla Pesaro dove siamo? Com'è? Al Marconi di Pesaro ecco perfetto adesso poi dopo quando ovviamente ci saranno i nostri inviati vi diranno e ci diranno tutto e ci racconteranno tutto bene Marconi e quindi e lo scientifico a Fano tra poco in diretta dopo la messa delle 7 e 30 andiamo sulla pagina del resto del Carlino la Vis non ha paura di sognare siamo forti niente impossibile concetti chiari nella notte della Rocca il DS Crespini dice difficile rinforzare ancora una squadra così come dire ormai siamo fortissimi e quindi basta solo manca solo diciamo il risultato sul campo la squadra c'è poi la Lube che scivola al primo esame qui parliamo di pallavolo pallavolo dove la Lube purtroppo ha perso 3 a 2 a Trento Trento è rimaneggiata ma vince al tie break domenica prossima retour match a Civitanova e poi Misano che è marchigiana Morbidelli vince in MotoGP Bagnaia è secondo e ringrazia i medici di Torrette Valerossi ottimo quarto Luca Marini trionfa in Moto2 Fenati ottavo invece in Moto3 domenica prossima si replica sempre in Romagna e questa era la pagina dedicata ai motori ma prima di salutarvi ho bisogno di darvi anche qualche notizia sul ah sul Fano ve l'abbiamo data perché c'era quella di Gabellini quindi va bene allora ci siamo non ci sono altre notizie no non ci sono altre notizie allora come vi ho già detto rimaniamo adesso qua in studio perché tra poco ci ritroveremo alle 8 in diretta con la seconda parte della rassegna restate con noi vi aspetto intanto tra pochissimo la messa in diretta da Loreto arrivederci grazie a tutti